Su delega della locale procura distrettuale, personale del commissariato di Acireale ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di un 43enne accese incensurato in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dall'ex moglie dell'indagato, la quale, stanca delle vessazioni e delle violenze subite fin dal 2009, ha deciso di sporgere querela nei confronti del marito poiché, sebbene i due si fossero separati nel 2016, tali atteggiamenti non avevano avuto fine, anche perché l'uomo continuava a detenere le chiavi della casa coniugale dove soleva presentarsi dando luogo a ulteriori comportamenti violenti. L'attività d'indagine ha permesso di verificare quanto dichiarato dalla donna, soprattutto grazie alle dichiarazioni dei figli della coppia e di alcuni certificati medici dai quali era possibile ricostruire le lesioni subite dalla vittima. L'uomo è stato quindi rintracciato presso la propria abitazione e successivamente associato presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza.